Ecco, caro sindaco, adesso iniziamo un bel giro. Partiamo da questa piazza di Gordons, adesso proseguiamo verso il castello di Spice e poi andiamo a fare un giro sulla Berna. Sono dei confini solamente immaginari ormai perché è territorio unico, i turisti viaggiano sia nel Coglio che nel Berna. Ciao, ciao! Guarda qua che meraviglia di posto! Buon rintesi al nostro territorio. Io sono talmente radicato in questa terra che la godo giornalmente, di fatto adesso vado in bicicletta e mi godo questo territorio che penso che sia unico al mondo, almeno per me. è una cosa, uno spettacolo unico. Eccoci qua, siamo arrivati dal mio amico Uro Sklínez. Siamo arrivati dal mio amico Frans, grande. Come sta? Come sta? Vi dobro? Ora andiamo a vedere quel vanno che sarà la paura. Sì, sì, sì. Prima siamo ci vedo il nostro ambasador. Madonna, ma ti puoi piacere il filtro. Abbiamo il suo ambasador. Che bello braccio, fino di calore.